Con i dati ufficiali è possibile adesso tracciare un quadro di quella che sarà la squadra teramana di sette componenti, che entrerà all'emiciclo. Fa ancora una volta il colpaccio Paolo Gatti, fratelli d'Italia, che ottiene ben 10.876 preferenze, il più votato in provincia di Teramo. Umberto D'Annuntis, sempre con fratelli d'Italia, che nella legislatura passata ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla presidenza della regione, ha incassato 7.407 voti. Non ce la fanno, almeno per adesso, Marilena Rossi, coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia, che si ferma a 5.381 preferenze, e Diego Di Buonaventura, ex sindaco di Notarisco ed ex presidente della provincia, che ha ottenuto 5.046 preferenze. Con i suoi 4.082 voti entra in consiglio regionale Emiliano Di Matteo, Forza Italia. Niente da fare per la Lega, che si attesta al 7,37% delle preferenze dei Teramani. Resta fuori dunque Pietro Quaresimale, che ha ottenuto comunque 5.596 preferenze. Nulla da fare anche per Doddo Di Sabatino Martina, noi moderati, con 2.474 preferenze. Per il centro-sinistra sono quattro consiglieri eletti, avendo, la coalizione di Luciano D'Amico, ottenuto il consenso del 50,18% degli elettori Teramani. Entrano tra i banchi dell'opposizione innanzitutto i due favoriti del Partito Democratico, Sandro Mariani, 7.532 voti, e Dino Pepe, 7.371. Buon risultato per l'assessore comunale Teramano Giovanni Cavallari, che con Abruzzo insieme conquista il terzo ingresso in nemiciclo, con 4.691 voti. Ennio Pavone, ex sindaco di Roseto e attualmente consigliere comunale e provinciale, entra con azione, avendo ottenuto 2.765 preferenze. Non ce la fa Baldo Di Buonaventura, assessore comunale di Teramo, che candidato con azione, ottiene 2.700 preferenze. Naturalmente a questi nomi si andranno ad aggiungere i consiglieri in surroga degli assessori. Sperano quindi, per Fratelli d'Italia, Marilena Rossi e Gabriele Astorfi, per Forza Italia.